Musica Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Terevomero. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato il secondo 21enne coinvolto nella gara di velocità nel centro flegreo che costò la vita, lo ricordiamo, il primo dicembre scorso ad un operatore ecologico. Si tratta di Nunzio Sannino di Quarto, già noto alle forze dell'ordine, accusato di concorso in omicidio stradale e omissione di soccorso. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato Nunzio Sannino, 21enne di Quarto, per cooperazione in omicidio stradale e omissione di soccorso. E' lui il giovane che il primo dicembre scorso stava gareggiando in auto contro il suo coetaneo Carmine D'Angelo, gara che era costata la vita ad Alfonso Campochiaro, l'operatore ecologico 62enne di Napoli, che come ogni notte si stava recando al lavoro da Napoli a Procida, passando per Pozzuoli. L'improvvedimento restrittivo è stato emesso dopo attività di indagine successiva all'arresto di D'Angelo. Questa mattina i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai pulsi del 21enne. Dai filmati, che sono stati analizzati dai militari dell'arma, si è vinta proprio la gara a folle velocità per le vie del centro di Pozzuoli, gara che è costata la vita al 62enne investito a 100 chilometri orari. L'investitore D'Angelo era rimasto sul posto e si era avvicinato ai carabinieri, ma aveva loro fornito una versione di comodo dopo essere stato identificato. Sannino invece, come evidenziato dalle successive indagini coordinate dalla Procura di Napoli, si era accorto dell'incidente, ma non si era fermato e aveva in un primo momento proseguito la marcia per poi tornare, ma solo dopo, a rendersi conto dell'accaduto. I militari dell'arma hanno stretto subito il cerchio delle indagini attorno ai due giovani, grazie anche alle immagini di videosorveglianza del comune di Pozzuoli. La polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino algerino, 45 anni, ricercato in campo internazionale poiché colpito da un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Costantenne in Algeria per partecipazione e organizzazione terroristica. Lo straniero aveva lasciato l'Algeria nel 2014 per raggiungere la Siria a unirsi alle milizie dello Stato Islamico. L'uomo è stato bloccato dalla Digos di Caserta all'interno di un casale abbandonato nel comune di Acerra, in provincia di Napoli. Siamo preparati, comune, a una direzione, un solo grido, esplosione! Da Parigi a Napoli la protesta contro il potere ha scelto come simbolo il gilet giallo. A indossarlo questa mattina anche gli operai di una cooperativa convenzionata con il comune che da due mesi non percepiscono stipendio. Si sono radunati in circa 200 sulle scale delle poste centrali in piazza Matteotti, prima di partire in corteo per piazza Plebiscito davanti alla prefettura, i lavoratori della cooperativa 25 giugno, in regime di convenzione con il comune di Napoli che li impiega nel campo del decoro urbano, della pulizia degli arenili, del contrasto all'inquinamento ambientale e della tutela degli impianti sportivi e dei parchi gestiti da Palazzo San Giacomo. Oggi non abbiamo stipendi da due mesi, le prospettive sono quelle di arrivare almeno a quattro mesi senza stipendio. Ci sono crisi delle famiglie, il comune di Napoli non può anticiparci per effetto della legge di bilancio di quest'anno, la crisi non la possiamo pagare noi perché la crisi degli enti è una cosa ma la crisi economica delle famiglie ne è un'altra. Ci porta veramente a mortificarci nella dignità e nella possibilità proprio di andare avanti. Col comune abbiamo contatti quotidianamente da parte della delegazione però vediamo che le risposte del comune sono sempre aleatorie, non sono sostanziose, impegni seri non se ne stanno pigliando. Quindi noi questo chiediamo, impegni seri e certi, chiediamo lo stipendio. Il regionalismo differenziato produrrà una crescita del contenzioso amministrativo, ne è convinto il presidente del TAR della Campania, Salvatore Veneziano, che ha trattato il tema all'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo. È facile prevedere, ha detto, che la differenziazione reale o percepito a chi sia, nei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi apprestati dalle varie amministrazioni, potrà determinare un incremento del contenzioso in un settore del quale la giustizia amministrativa sarà sempre più frequentemente chiamata ad occuparsi quello dei diritti fondamentali dei cittadini. Sarà un 2019 all'insegna del contenzioso amministrativo, dovuto soprattutto alle recenti misure legislative del condono e ricostruzione di Ischia e del reddito di cittadinanza. Ad affermarlo nel giorno dell'apertura dell'anno giudiziario del TAR Campania 2019, il presidente Salvatore Veneziano, le due norme ha poi spiegato, sono destinate a incidere in maniera significativa nella circoscrizione del Tribunale di Napoli. Un Tribunale che però ha dichiarato aver raggiunto nel 2018 dei risultati molto incoraggianti e col segno positivo. Abbiamo inciso sulla pendenza con un meno 17,5% rispetto all'anno precedente e soprattutto siamo riusciti ad incidere anche sulle pendenze più risalenti nel tempo, quindi diminuendo anche il tempo medio di definizione dei giudizi dinanzi al TAR Campania, scendendo al di sotto dei tre anni, quindi è un coronamento di un programma di attività che si è svolto negli ultimi anni e che ha dato i suoi risultati. Presente alla cerimonia, oltre al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, anche il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, che sulla possibilità di un aumento dei processi con l'entrata in vigore dell'autonomia differenziata regionale, spiega. In questo momento non riesco a figurarmi un aumento del contenzioso sull'autonomia differenziata, però credo che per poter rispondere completamente a questa domanda occorrerebbe conoscere meglio come sarà, quando sarà e se l'autonomia differenziata, il regionalismo differenziato. A bene dire il TAR Campania, sua eminenza è il cardinale Crescenzio Sepe. Un organo che in qualche maniera, come finalità, quella di poter in qualche maniera organizzare un'amministrazione che non faccia eccezioni in quello che è la finalità precivo e speciale di fare il bene di tutti, credo che sia un perno sociale intorno a cui tutti quanti siamo coinvolti poi. Un cittadino pakistano è stato aggredito con spranghe e mazze da baseball l'altra notte da un gruppo di ragazzini a Napoli. L'uomo è stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Cardarelli, ma non ha riportato ferite gravi. La vicenda è avvenuta nella zona di Porta Nolana. A darne notizie il movimento Potere al Popolo, l'uomo stava rientrando nella sua abitazione quando, secondo quanto si legge in una nota di Potere al Popolo, è stato aggredito da una baby gang armata di spranghe e mazze, ma dopo alcuni colpi è comunque riuscito a mettersi in salvo raggiungendo di corsa la sua abitazione. Indaga la polizia, il pakistano ha più postato un video su Facebook nel quale racconta di essere stato aggredito da una dozzina di ragazzi. Arriva a Napoli l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi nel giorno in cui c'è il rinvio a giudizio di sua madre per presentare il suo libro L'idea di Matteo Renzi per l'Italia di domani. La notizia del rinvio a giudizio della madre di Matteo Renzi ha reso giornalisticamente più appetibile l'arrivo a Napoli dell'ex presidente del Consiglio, oggi esponente di quel Senato che lui stesso avrebbe voluto abolire con legge costituzionale, poi bocciata dal referendum che decretò di fatto la fine della sua era politica. Tanto appetibile che in sala non c'era un posto a sedere e a diversi giornalisti ed operatori dell'informazione è stato impedito l'accesso all'interno. A presentare il libro sulle idee di Matteo Renzi per l'Italia di domani anche l'ex ministro Maria Elena Boschi ma come anticipato l'argomento clou della giornata non erano i consigli dell'ex premier né le imminenti primarie del PD del 3 marzo. Noi crediamo nella giustizia, c'è naturalmente una vicenda personale di dolore per quello che è accaduto. Io non sono un robot, sono un uomo, sono un figlio e come tale soffro insieme ai miei genitori e alla mia famiglia per quello che sta accadendo. Dall'altro sono comunque un rappresentante delle istituzioni per cui abbiamo sempre detto che noi crediamo nella giustizia. La giustizia è quella che celebra i processi appunto nelle aule dei tribunali non quindi sui social, non sulle piazze, non sul web ma nelle aule dei tribunali e che va a sentenza. Andare a sentenza significa aspettare e rispettare le sentenze. Fino a questo momento di sentenze ne sono arrivate due e sono due sentenze di condanna tutte e due per Marco Travaglio per aver insultato il mio padre. Quindi per il momento a sentenze siamo due a zero. Vedremo quello che avverrà. Oltre un milione di articoli contraffatti o non conformi alla normativa europea sono stati sequestrati dai finanziari del Comando Provinciale di Napoli a seguito di un'attività info-investigativa che ha consentito di individuare un'attività commerciale in via Carlo di Tocco a Napoli gestita da cittadini di nazionalità cinese che vendevano merce contraffatta a seguito dell'ispezione locale del relativo deposito i baschi verdi hanno rinvenuto una considerevole quantità di merce non conforme alle normative vigenti. Santa Maria Piazza Forcella è una chiesa che va restituita alla città e ai suoi cittadini. Riportare alla luce un capolavoro di importanza storica e architettonica una delle chiese più antiche di Napoli quella di Santa Maria Piazza che si trova in piazzetta Forcella. È questa la sfida lanciata dall'Arcivescovo Metropolità di Napoli il Cardinale Crescenzo Sepe ai rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli nel corso della benedizione della nuova sede all'interno di Palazzo Partanna di Piazza dei Martiri. Da anni l'Ordine si impegna al fianco della Curia Partenopea alla riapertura al culto e alle attività socio-culturali di molti edifici della città come ad esempio la Basilica di San Giovanni Maggiore. All'inaugurazione della sede rappresenta anche una delegazione dell'Ordine degli Architetti con il Presidente Leonardo Di Mauro. L'Arcivescovo è stato accorto dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Edoardo Cosenza, dal Consiglio Direttivo e dagli iscritti. Avremo anche dei percorsi di accompagnamento della Curia in problemi di ingegneria e architettura che speriamo di poter fare in comune. Abbiamo questo tesoro che diversamente andrebbe perso oppure pericoloso perché è un segno di quella solidarietà per cui ognuno nella sua professionalità può dire ecco io posso dare un mio contributo per la conservazione che poi è per il bene comune, per il bene di tutti. E quindi quando si trova una disponibilità, un'apertura a contribuire, a realizzare questo bene ecco allora ci sentiamo veramente tutti più realizzati come uomini, come professionisti e anche come credenti. Un libro inchiesta in cui si parla di politiche in massoneria, imprenditoria e tanto altro ancora del giornalista Alessandro Darold. Un libro inchiesta che mette in fila una serie di fatti, testimonianze e racconti su commerci illeciti di armi, affari milionari e interessi politici ed economici che si incrociano con quelli delle massonerie, delle criminalità organizzate e dei servizi segreti. Tutto questo è presente nel libro Pecunian Non Olet scritto da Alessandro Darold, cronista di cronaca giudiziaria presentato ieri alla Feltrinelli di Napoli. Accanto all'autore padre Alex Zanotelli, l'ex direttore di film meccanica per l'Africa subsahariana, Francesco Maria Tuccillo, che è anche uno dei testimoni su cui si basa il libro stesso. Spesso le nostre industrie pubbliche, ricordo che film meccanica, l'attuale Leonardo, è contratto al 30% dal tesoro, premiano i vecchi dirigenti o comunque quelli di cui pensano di potersi fidare di più, invece che anche i giovani manager, che viene riconosciuto un valore, un premio anche che vengono però messi alla porta semplicemente perché rompono o vogliono comunque rompere quell'omertà che pervade molto spesso l'industria pubblica italiana. Ogni giovane oggi deve cominciare a capire quanto è importante il problema delle armi. Questo sistema entro cui viviamo, economico-finanziario, che riduce in povertà buona parte degli esseri umani non potrebbe continuare se non fosse per la forza delle armi. Io mi auguro che una parte di questa storia che è raccontata in questo libro serva a capire che bisogna comportarsi rispettando una certa etica, che è l'etica dei mezzi. Io dico sempre che non è il fine a giustificare i mezzi, ma sono i mezzi che qualificano sia il fine che le persone. Nella pubblicazione viene raccontata la rete d'affari di Finmeccanica in Africa e parallelamente si ripercorre la storia di un soggetto come Vito Roberto Palazzolo, arrestato dopo una lunga latitanza nel 2012. Ascoltiamo il professore Antonio Cortese del Centro Studi Sebezia Terra. È importante al giorno d'oggi che ci siano queste iniziative di inchiesta per mettere a riparo il nostro paese da questi rischi e farlo entrare nella competizione della globalizzazione al massimo delle sue potenzialità e esprimere il meglio per il nostro futuro e per le nostre generazioni. Uno degli arrestati lo scorso 30 luglio in Messico, ritenuto legato al crimine locale e coinvolto nella sparizione dei tre napoletani, è libero. A riferirlo è Claudio Falletti, avvocato delle famiglie di Raffaele Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, che ha preso la notizia tenuta nascosta direttamente dal Messico. Da qualche mese Falletti sta passando al setaccio gli atti sulla vicenda dei tre italiani scomparsi, un fascicolo della procura, lo stato dove gli italiani sono scomparsi di circa 3.500 pagine, Falletti è appreso dagli inquirenti messicani che prima della scadenza di 90 giorni di custodia cautelare e arresti domiciliari, il procuratore ha chiesto di fissare l'udienza per decidere il rinvio a giudizio dell'uomo, proprio in relazione alla sparizione dei connazionali spariti in Messico, ormai da un anno. Magistratura di sorveglianza, l'alternativa al carcere è possibile. È il titolo del convegno organizzato dal garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, che si è tenuto questa mattina presso il Consiglio regionale della Campania. Il ruolo della magistratura di sorveglianza, oltre che alle questioni relative ai diritti dei detenuti durante l'esecuzione della pena, è esteso anche alla concessione e alla gestione delle pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale della pena, sia prima dell'inizio della sua esecuzione. Credo che attraverso questo convegno vogliamo anche dare la possibilità alla gente, alla società civile, alle università, agli operatori, ai cappellani, alle cooperative, di costruire un ponte, una zattera. Perché guardate, l'80% delle persone torna in carcere, quel 20% che non torna sono quelle persone che hanno incontrato una cooperativa, un corso di formazione, dei volontari, che hanno dato a loro la possibilità di reinserirsi nella società. L'articolo 27 della Costituzione dice che il carcere serve a rieducare. Non bastano i governi gialloverdi, di destra o di sinistra, per cambiare la Costituzione. Cambiamo la Costituzione, fino a quanto esiste questa Costituzione, ci sono luoghi e pene alternative al carcere. All'evento presiduto dal Garante sono intervenuti Giuseppe Martone, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, Maria Bove, direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Campania, oltre a rappresentanti di associazioni, cappellane degli istituti penitenziari, docenti universitari, avvocati e detenuti in permesso. Alla tavola rotonda presenti anche Monica Mirante, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, e Adriana Pangia, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Prima, con la riforma che si era organizzata, era molto più facile dare le alternative al carcere, ora c'è stata un po' una restrizione sotto il profilo dell'inammissibilità, le misure alternative, però devo dire che l'ufficio di sorveglianza, almeno il Tribunale di Sorveglianza, abbastanza propenso a cercare di trasformare la detenzione carceraria in una misura alternativa, qualessa sia più idonea in relazione alle caratteristiche del soggetto, ovviamente. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi, ci vediamo come di consueto alle prossime edizioni, intanto continuate a seguire i programmi di Televomero. Arrivederci. Grazie.